Terza corsa premio Niebla Blanca, è la prova principale del convegno di oggi, un confronto sul miglio per ottimi soggetti di 4 anni, sono in 6 al via. La macchina si mette in movimento per raccogliere l'1 di Stripe e K, Giuseppe Pietro Maisto, il 2 di Stancovici Ok, Enrico Bellei, il 3 di Superstar Riaf, Biagio Loverde, il 4 di Sir Darferm, Mario Minopoli Junior, il 5 di Scintilla Kaff, Davide Di Stefano, il 6 di Spinello Jet, Romeo Gallucci. Superstar Riaf numero 3 e Scintilla Kaff numero 5 sono in rapporto di scuderia, siamo a 150 metri dallo stacco della macchina, l'errore breve di Stripe e K che però rimane arretrato, All'esterno parte molto forte Spinello Jet che supera agevolmente tutti gli avversari fra i quali Stancovici Ok rimane secondo avanti a Superstar Riaf, Sir Darferm e Scintilla Kaff. Si sistemano ben presto in fila indiana i 6 concorrenti con Spinello Jet a comandare su Stancovici Ok e Superstar Riaf, poi Sir Darferm, Scintilla Kaff e Stripe e K che si è rimesso dopo l'incertezza iniziale. Sposta Stancovici Ok dopo 400 metri che Spinello Jet ha rallentato bruscamente e aspettava un avversario che venisse a rilevarlo per correre di rimessa, è stato ovviamente Stancovici Ok a fare la prima mossa dalla seconda posizione. I 600 iniziali del figlio di Self Possessed sono comunque in 43 e mezzo. E c'è sempre fila indiana comandata ora da Stancovici Ok su Spinello Jet, Superstar Riaf, Sir Darferm. Paletto di metà gara in un normalissimo un minuto si viaggia sul piede l'1.15 perché sulla seconda curva Enrico Bellei ha decisamente ripreso in mano Stancovici Ok. Una frazione in 16 e mezzo e ora una in 14.9 per completare il primo giro proprio in 1.14.9. Avendo in scia Spinello Jet, Superstar Riaf, Sir Darferm, Scintilla Kaff e Stripe K, situazione che non muta. 1200 metri in 1.29. Quindi 14.1 l'ultima frazione, 29 il quarto di fronte per Stancovici Ok in accelerazione. Pedinato da Spinello Jet che accenna a spostare dalla sua scia e va all'attacco. Poi Superstar Riaf con all'esterno Sir Darferm, Stancovici Ok che reagisce accelerando su Spinello Jet si impegna Superstar Riaf in anticipo su Sir Darferm. Stancovici Ok nel finale che difende la posizione da Superstar Riaf e Sir Darferm. Vince Stancovici Ok su Superstar Riaf e Sir Darferm. Poi Spinello Jet e quindi pronostico rispettato da Stancovici Ok che ha trottato il secondo mezzo miglio in 57.5. Ma tale misura è stata appena sufficiente per replicare all'ottimo chiusa di Superstar Riaf che ha corso davvero bene di rimessa. Ha anticipato lo spunto di Sir Darferm per far sua la piazza d'onore. La vittoria comunque di Stancovici Ok è netta. Una lunghezza abbondante per il figlio di Ser Possess ed ha allenato da Gennaro Casillo. Ottima seconda Superstar Riaf davanti a Sir Darferm che batte anche il suo Spinello Jet per il terzo. 2-3-4 è l'arrivo ufficioso della terza di Capannelle.